Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Giovi e oggi vi mostro come ho costruito questa casa marocchina Utilizzando il nuovo kit Oasi in giardino In realtà questo kit non è proprio nuovo E' uscito più di un mese fa, ovvero il 18 maggio Me ne sono riuscito a costruire qualcosa solamente una settimana fa con voi in live su Twitch Ho fatto per la precisione due live, entrambe da due ore e mezza Quindi in totale ho speso cinque ore per costruire questa casa marocchina Ma mi sono veramente divertito Intanto i vostri consigli sono sempre preziosissimi Ma poi gli oggetti di questo kit sono bellissimi Ve l'avevo già detto nella recensione che vi ho portato sul canale più di un mese fa Ma veramente questo kit è perfetto per me Oggetti tutti colorati, mosaicati, veramente il mio stile Sono per me oggetti meravigliosi Veramente vi consiglio di acquistarlo Se come a me vi piacciono gli oggetti un po' etnici, multietnici Veramente bello, bello, bello Per quanto riguarda la casa Come vedete l'esterno l'ho fatto abbastanza velocemente Perché me l'ero preparato Io solitamente faccio un po' di prove off camera Cercando di capire un po' la struttura E poi avevo fatto semplicemente le foto della struttura che avevo fatto E l'ho ripresa in live Quindi la struttura già l'avevo pronta in mente Perché io perdo un sacco di tempo a fare le strutture esterne E voglio che le strutture esterne siano perfette Io sono il tipo che prima fa l'esterno E poi fa l'interno Anche ci sono persone che fanno il contrario Ognuno poi va un po' ad abitudini Io faccio prima l'esterno Assolutamente Almeno la struttura La struttura deve essere perfetta già dall'inizio E poi sono andato all'interno Mi piace moltissimo di questa casa Sia la forma sia la presenza di un cortile interno Di un giardino interno Da cui poi si sviluppano tutte le altre stanze intorno Proprio come succede nei riad marocchini Da cui ho preso ispirazione Infatti prima di costruire Mi sono guardato un bel po' di immagini su internet Di riad marocchini Meravigliosi Su internet si trova di tutto E' tutto bellissimo Ma una cosa che avevano in comune queste immagini Era la presenza di un cortile interno Quindi ho deciso di farlo anche io In questo lotto ad Oasis Springs Perché si questo lotto si trova ad Oasis Springs Inizialmente pensavo di costruire questa casa marocchina A Salvadorada Però poi ho visto un po' bene i lotti Ho visto un po' lo scenario Ho detto No meglio Oasis Springs Anche da Salvadorada c'erano lotti un po' più piccolini Mentre ad Oasis Springs Era rimasto solamente questo lotto molto grande 40x30 Che alla fine è andato benissimo Però io sono lento a costruire in lotti grandi Solitamente costruisco case mini Micro case Mini case Infatti per questo motivo Anche lo staff pack mini case E' il mio preferito Perché costruisco sempre cose piccoline Mentre in questo caso Sono andato un po' fuori dalla mia comfort zone Tra virgolette E ho costruito qualcosa di più grande Ma ne balza la pena Come vedete dallo schermo Adesso mi sto dedicando al posizionamento delle finestre E anche di svariati balconcini Infatti questa casa presenta un totale di 5 balconcini E quasi tutti li ho riempiti Utilizzando 3 oggetti principali Ovvero piante di banano Base di terracotta E lanterne da terra Ovviamente sono tutti oggetti aggiunti con il nuovo kit Ma veramente sono andato in fissa con questi oggetti Li ho messi ovunque in ogni angolo Chi c'era in live nel testimone Ho messo ovunque questi oggetti Ma perché secondo me sono bellissimi Veramente non ne ho potuto fare a meno E un'altra cosa particolare di questa casa A parte il cortile interno A parte la presenza dei balconcini E anche che ho costruito l'intera casa Su una piattaforma Non ho utilizzato le fondamenta Perché il nuovo kit Non hanno messo una nuova decorazione per le fondamenta Ma l'hanno messa solo per le piattaforme Quindi ho detto vabbè Utilizziamo le piattaforme Niente fondamenta Non ci interessano le fondamenta Certo costruire con le piattaforme è molto più insidioso Perché sappiamo tutti che le piattaforme hanno sbagliati bug E chissà si sistemeranno mai Uno di questi che sicuramente avrete provato sulla vostra pelle È quello che quando si chiude una stanza Automaticamente nelle altre stanze si alza la piattaforma di un livello È una cosa odiosissima Perché poi spariscono gli oggetti Ad esempio le scale A me è capitato che mi sono sparite le scale Per colpa delle piattaforme Che cosa odiosa Però alla fine Ci facciamo l'abitudine Diciamo che io ci ho fatto un po' l'abitudine Perché utilizzo spesso le piattaforme Sono un pochettino un must have nelle mie case Perché mi permettono di dividere meglio gli spazi Un po' come i muretti a mezza altezza Che ovviamente anche in questa casa non mancano Perché all'esterno ho utilizzato i muretti a mezza altezza Pensavate che io non avessi utilizzato i muretti? Eh no ragazzi Vi sbagliate I muretti ci sono sempre Non li abbandono I miei amati muretti a mezza altezza Ma muretti a mezza altezza a parte Sicuramente avete notato in alto a sinistra La presenza di tre riquadri blu Con alcuni dei vostri nomi sopra In quei riquadri abbiamo Il nome di chi si è iscritto su youtube o twitch Durante le due live in cui ho costruito questa casa marocchina Ma abbiamo anche il nome di chi ha utilizzato i cosiddetti bit in chat O di chi si è abbonato al mio canale twitch Sempre durante le due live E a proposito di questi nomi Colgo l'occasione per parlarvi un minimo di twitch Trovo che twitch sia una piattaforma ottima Per quanto riguarda le live Perché rende le live molto più interattive Posso rendervi partecipi in maniera molto più semplice Anche attraverso delle funzioni molto semplici Come ad esempio i sondaggi Infatti durante la live Io ho fatto un sondaggio molto semplice In cui vi chiedevo Quale tavolino dovrei utilizzare Quello di avventura nella giungla O quello di oasi in giardino E voi mi avete risposto immediatamente È un qualcosa di molto più sfizioso Che purtroppo su youtube manca Quindi spero che su youtube aggiungano Delle funzioni in più in futuro Ma su twitch mi piacciono tantissimo queste funzioni Quindi tenete sempre d'occhio il mio canale twitch Perché è un social che mi piace Lo utilizzo molto anche da spettatore Infatti guardo molte live di simmer italiani su twitch Ma piace anche a me farle ogni tanto Quindi vi lascio ovviamente giù in descrizione Il link per potermi andare a seguire Il mio nome è come quello di instagram Ovvero Joby Games Underscore Vi ho parlato un minimo di twitch Ma adesso possiamo tornare a parlare di quello che state vedendo attualmente Sullo schermo Ovvero degli interni di questa casa marocchina Vi so già adesso che io durante le live ho cambiato spessissimo I colori di questa casa Perché volevo fare un qualcosa di colorato Ma per me non è semplice Perché non sono abituato a fare cose così tanto colorate Utilizzo solitamente il marrone Marrone scuro o marrone chiaro In The Sims 4 E poi il celeste barra blu Questi sono i colori che utilizzo Mentre in questo caso ho dovuto utilizzare blu acceso Giallo abbastanza acceso Rosso acceso Quindi non capivo bene come fare il tutto E infatti come vedete adesso sullo schermo Ho fatto un po' tutto sul marrone scuro Però c'era qualcosa che non mi convinceva Lo dicevo durante la live Tipo Non lo so se mi convince E infatti poi alla fine ho cambiato tutto Ho reso tutto molto più colorato E il risultato mi piace tantissimo Per quanto riguarda invece la struttura delle stanze Di come ho diviso l'interno Abbiamo un ingresso con una cucina E si la cucina si trova proprio davanti alla porta di casa Mi piace moltissimo come posizione Anche perché era l'unica posizione fattibile In effetti per questa casa Poi a destra ho inserito una bella sala da pranzo Un bel tavolo grande per 6 persone Anche perché questa casa ha 5 posti detto Quindi per forza 6 posti al tavolo dovevo mettere Poi abbiamo ovviamente al centro il cortile interno Che ha la funzione di salottino Io mi immagino i sim che magari si è fatta notte Abbiamo la luce delle lanterne Sapete con quell'aria fresca Estiva Con quel venticello Che bello Vorrei essere un sim e vivere in questa casa Veramente Poi abbiamo a sinistra la prima camera da letto Sui toni del blu Con il bagno in camera Anche il bagno enorme Bellissimo Insomma è un bagno che tutti desidererebbero E poi abbiamo una scala che ci porta Al piano di sopra Al piano di sopra ovviamente abbiamo Tutta la zona che contorna il giardino interno Diciamo che abbiamo una vista sul cortile E poi abbiamo un bagno per tutti Quindi non è un bagno in camera E poi abbiamo una camera da letto Sempre con un letto matrimoniale Un piccolo studio dove ho messo anche la stazione Per l'archeologia di avventura della giungla E poi una piccola stanza con un letto a castello Giunto con arredi da sogno Quello l'ho immaginato un po' come stanza degli ospiti Per chi magari arriva successivamente O magari per un sim che non vuole dormire con qualcun altro Vuole dormire da solo Insomma per qualcuno che vuole quel letto E quella stanza tutta per sé Infine da non dimenticare Il retro che presenta Una piscina completamente mosaicata Io solitamente quando faccio le piscine Non mi metto a colorare i muri e i pavimenti Io in questo caso ho messo il mosaico Perché ci stava benissimo Ho anche creato una zona relax Con due sedie sdrai Un tavolino con le piantine succulente Quindi con dei piccoli cactus troppo sfiziosi Di vita universitaria E poi ho fatto anche una zona dedicata Al cibo Infatti ho inserito un barbecue Con un altro tavolo Da sei persone In me ne è tale che I sim che vengono in questa casa Possono anche tranquillamente Grigliare qualcosa Non ho creato questa casa Come una casa in affitto Ma secondo me sarebbe Una casa vacanza perfetta Quasi quasi cambio il tipo di lotto Vabbè potete farlo voi Dalla galleria Perché io questa casa Ovviamente Ve l'ho messa in galleria Il mio D è jovi underscore 0103 La trovate lì la casa E io l'ho messa come lotto residenziale Quindi potete tranquillamente Cambiare il tipo di lotto E metterlo come lotto In affitto La casa inoltre Costa meno di 100.000 simolon E credevo Di averla fatta più costosa Invece no Sotto i 100.000 simolon Quindi perfetto Non è nemmeno una casa Chissà quanto costosa Costosa si Ma nemmeno troppo Adesso sullo schermo Potete iniziare a vedere Quello di cui vi parlavo Pochi minuti fa Ovvero sto cambiando Un po' I colori a tutto Adesso ho inserito Mobili rossi Gialli Blu Insomma sta prendendo Realmente forma La casa E stiamo quasi Indirittura ad arrivo Perché già sono arrivato Alla costruzione Del secondo piano Mancano solamente Le due camere E poi Il piccolo studio Poi dopo ci dedichiamo Alla costruzione Del retro E poi alle piantine All'inserimento Di tutte le varie lanterne In giro per casa Insomma Stiamo quasi Indirittura ad arrivo Con la costruzione Di questa casa marocchina E mentre noi continuiamo Con questa costruzione Parliamo Dei kit I kit Diciamo sono un po' I protagonisti Di questo video Perché in questo video Stiamo parlando di Oasi in giardino Ma vorrei prendere Proprio questo argomento Perché ultimamente Ho notato una cosa Molto curiosa Sul canale Di The Sims Ovvero Che il trailer Sui primi Tre kit Di The Sims 4 Ovvero su Pulizia di primavera Cucina di campagna E moda retro Non c'è più Sul canale Di The Sims Hanno rimosso Il trailer E questa cosa Mi ha lasciato abbastanza Bocca aperta Non ho capito Il perché Questa cosa Era successa solamente Con Lo staff pack Il mio primo animale Infatti se cercate Sul canale Di The Sims Non c'è più Il trailer Del mio primo animale Ma il mio primo animale Era un caso diverso Era un pack Molto più problematico Dei kit Ci sono state tantissime Critiche Quindi lo comprendo Ma perché Hanno rimosso Il trailer Dei kit Se adesso andate a cercare Vedrete che Non c'è più E Perché Effettivamente Non ho molto capito Forse il team Di The Sims Ha capito Che è stato Un esperimento fallito E non faranno più kit Per The Sims 4 In realtà Non ne hanno molto parlato Di kit I Sim Guru Anche l'ultimo kit Che è uscito Non hanno fatto Molta pubblicità È uscito As in giardino Sì vabbè Hanno fatto una live Su Twitch Ne hanno parlato Un minimo Ma niente di che Quindi forse Non faranno più kit Non lo so È solamente Una supposizione Ma secondo voi Sono andati Realmente bene Questi kit O è stato Un esperimento fallito Potrebbe essere Che magari L'esperimento È andato come Volevano Effettivamente Quindi non li faranno più Ma io in realtà Vorrei vedere qualcos'altro Per quanto riguarda i kit Mi piacerebbe tantissimo Vedere altri kit Per la modalità Costruisci Perché secondo me Sono la tipologia migliore Di kit Il crown sim Non mi interessa Non mi interessa moltissimo Anche per quanto riguarda il gameplay Non credo che i kit Siano una tipologia di pack Migliore Per migliorare il gameplay Invece In modalità costruisci Top Secondo me E mi piacerebbe moltissimo Vedere altri kit Come questo Oasi in giardino Dedicati Alle varie etnie Nel mondo Anche un pack Magari sull'Italia Sulla Francia Quindi sull'Europa Sarebbe bellissimo Secondo me Voi che cosa ne pensate? Io vorrei vedere qualcosa altro Per quanto riguarda i kit Però Hanno rimosso il trailer È effettivamente Una mossa strana Era successo solamente Con il mio primo animale Certo È Compensibile Da un lato Perché il trailer dei kit Aveva più Non mi piace Che mi piace Proprio come era successo Con il mio primo animale Quindi Non era una buona pubblicità Per quanto riguarda Il team di The Sims Sicuramente Vedere tutti Quei non mi piace Ma in realtà Abbiamo un caso simile Anche con il game pack Star Wars Piaggio a Batuu E lì il trailer Continua ad esserci Quindi Non lo so Perché hanno fatto così Sono veramente curioso Di scoprire di più E A parte questo Un'altra cosa curiosa Per quanto riguarda The Sims In questo periodo È l'uscita Sul profilo Instagram Ma comunque Sui social Di The Sims Di una scritta strana In Simlish L'avete vista Sui social? È una scritta Un po' strana Chissà cosa vorrà dire Io non ho idea Non so tradurre In Simlish Ma che cosa potrebbe essere? In effetti Noi avevamo Una programmazione Da parte del team Inerente All'estate Dei Sims Sapevamo che doveva uscire Un kit Infatti è uscito È uscito anche Un nuovo game pack E hanno annunciato Una nuova espansione Quindi per quanto riguarda I pack Già sappiamo tutto Doveva esserci anche Un evento dedicato Pride Che già è avvenuto In una live Su Twitch Adesso mancano Solamente Due aggiornamenti Gratuiti Perché Nella programmazione C'era scritto Che dovevano arrivare Per The Sims 4 Tra i mesi Di maggio e luglio Tre aggiornamenti Gratuiti Ne abbiamo già avuto Uno Quindi ne mancano Due Sicuramente Uno sarà Pre-espansione Ma il terzo Potrebbe essere Un aggiornamento Inaspettato Per tutti Forse quella foto Sui social È inerente A questo aggiornamento Di cui non si è parlato Oppure questa foto Sui social Potrebbe essere Inerente A un altro capitolo Di The Sims Potrebbe anche essere Perché nella programmazione Dell'estate De The Sims Abbiamo Già visto tutto Abbiamo tutto Quindi Potrebbe essere Qualcosa di inaspettato In effetti Anche Maruko Che sicuramente Conoscete Aveva fatto notare Che il trailer Di The Sims 4 Vita in campagna È uscito Molto In fretta Era uscito Da veramente Pochissimo Il trailer Di The Sims 4 Riri da sogno Dopo pochissimo Boom Nuova espansione E perché questo Perché non hanno aspettato Un minimo Forse c'è un qualcosa Di più importante Da annunciare Potrebbe in effetti Essere un nuovo capitolo Di The Sims E non mi sorprenderebbe Perché siamo Nel 2021 Quindi Dai Sarebbe anche l'ora Perché The Sims 4 È uscito Nel 2014 Eh sì È un gioco Che comincia Comunque a farsi Un po' Becchiotto Certo Sempre bellissimo Secondo me Però Comincia a farsi Vecchiotto Anzi Nell'ultimo periodo De The Sims 4 Secondo me Perfetto Stanno rendendo Molto più completo Quindi anzi In questo periodo De The Sims 4 Sta andando benissimo Non sento Non sento le esigenze Un nuovo capitolo Però Sarei curioso Di vedere Un nuovo capitolo Non so minimamente Come potrebbe essere La grafica Vi immaginate una grafica Con The Sims 5 Veramente non lo so Perché per me La grafica migliore È quella di The Sims 4 Io sono cresciuto Ma in effetti Potrebbe anche Essere dietro l'angolo L'annuncio Ma anche se fosse Sicuramente Non uscirà Prima nel 2022 Sicuramente Se lo annunciano adesso O uscirà nel 2022 O nel 2023 Comunque C'è ancora tanto tempo Sicuramente Però voi che cosa ne pensate Vi piacerebbe Un The Sims 5 Sicuramente sarebbe Un po' fastidioso Dover ricomprare tutto Quindi ricominciare Con The Sims 5 Stagioni Sims 5 Animali E co O magari Sims 5 Cani e gatti Magari fanno solo Un pacco sui cani E uno sui gatti Visto che si va sempre Un po' A ritagliare A dimezzare I contenuti Magari fanno Sims 5 cani E Sims 5 gatti Vabbè Magari non faranno così Però è possibile Chi lo sa Però Fatemi sapere Quello che pensate Io Sinceramente L'annuncio di The Sims 5 Non lo prenderei male Sinceramente Anzi Io direi Era l'ora In effetti Anche se Ribadisco The Sims 4 In questo anno Mi sta veramente sorprendendo Perché i contenuti Che stanno uscendo ultimamente Sono veramente Di buona qualità Sono veramente belli Ma a parte questa digressione Su The Sims 5 Sui kit Sul fatto che hanno rimosso Questo trailer Sul canale di The Sims Torniamo a parlare Della nostra costruzione Sullo schermo Come vedete siamo quasi Indirittura d'arrivo Adesso sto mettendo Tutte le luci In casa E ho perso Un sacco di tempo A mettere Le luci E si Ho messo proprio L'orario notturno E ho cercato di rendere Questa casa Di notte Perfetta Perché era Un'atmosfera Un'atmosfera Non troppo buia Ma nemmeno troppo Illuminata Cioè Un'atmosfera Perfetta Infatti ho messo Lanterne principalmente Una casa Con tutte Lanterne E l'illuminazione Con le lanterne Mi piace tantissimo Perché non è Un'illuminazione Artificiale È molto più Leggera E ci sta benissimo Quindi veramente Bello 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 Sono contento E poi alla fine Mi sono dedicato Anche all'inserire Il cestino fuori E anche Le piantine All'esterno Ho messo principalmente Delle palme Quindi le palme Come ad Oasisprings Ho voluto fare Qualcosa di simile Al quartiere intorno E poi mi sono un po' Sbizzarrito Con le piante di agave E con le rocce Ho voluto mettere Le rocce di questo colore Un po' più scuretto Solitamente non le utilizzo Perché non costruisco Moltissimo Ad Oasisprings Ma in questo caso Mi sono veramente Sbizzarrito Sono veramente contento Di questo lotto Che ho fatto È un lotto 40x30 Io solitamente Faccio lotti piccolini Quindi veramente Sono super soddisfatto Infatti poi alla fine Della live Ero tutto contento Ma ancora adesso Sono contentissimo Di questo lotto Come è venuto E va bene Quindi abbiamo completato Con questo lotto Ovviamente adesso Metterò un pochettino Di terreno a terra Ma la costruzione È finita Quindi direi di andare Immediatamente in gioco Così ve la faccio vedere In gioco E facciamo un tour veloce Eccoci arrivati in gioco Ad Oasisprings Questa è la casa marocchina Che ho costruito Questo lotto Ha due bagni E tre letti Per un totale Di cinque posti letto E vale 94.000 simoleon Vi faccio un bel tour Adesso Vi faccio vedere Intanto la casa Intorno Con questa luce serale Che secondo me È la migliore In questo lotto Come vedete Ecco qua È meglio questa luce serale Vi faccio fare Un bel giro Ecco qui la casa Tututum Molto molto bella Sono veramente soddisfatto Eccola qui Adesso vi faccio fare Un bel tour Allora qui all'ingresso Come vedete Abbiamo questa zona relax Intanto Eccola qui Abbiamo questa zona qua Troppo sfiziosa Secondo me Eccola qua Guardate che sfizio Poi entriamo E abbiamo Una cucina Eccola qua La cucina sui toni del blu E del bianco Si sale E abbiamo Questo cortile interno Eccolo qui Il nostro amato Cortile interno Ovviamente con tutti i parapetti Del nuovo kit La nuova fontana I nuovi divanetti I nuovi vasetti E le lanterne La pianta di banano Insomma tutte queste cose Che ovviamente in questa casa Non potevano mancare Poi a destra Abbiamo la sala da pranzo Sui toni del giallo E del turchese Troppo sfiziosa Ma non ho messo Moltissime decorazioni Ma secondo me Va benissimo così E poi abbiamo A sinistra Questa porta Ovviamente qua abbiamo Sempre le lanterne Ovunque Sedi ovunque C'è veramente di tutto A sinistra abbiamo La prima camera da letto Eccola qua Sui toni del blu E abbiamo anche Il bagno in camera Eccolo qui Nei bagni ho messo Queste piastrelle Differenti di avventura Nella giungla Come vedete Sono piastrelle differenti Queste qua che ho usato In tutta la casa Sono del gioco base Mentre queste di bagni Sono di avventura Nella giungla E poi saliamo Al piano superiore Grazie a questa Scala Sempre mosaicata Al piano superiore Abbiamo ovviamente Tutta questa zona Che si affaccia Sempre sul cortile interno Come vedete abbiamo Tutta la recensione Si ma si possono affacciare Abbiamo varie poltroncine Con librerie E poi lanterne Sempre lanterne ovunque Banani Basilite e racotta Ve l'ho detto Che ho utilizzato Questi oggetti ovunque E poi abbiamo Il secondo bagno Qui Eccolo qua Sempre con queste Piastrelle differenti E con questa colorazione Per i muri Sempre mosaicata E poi abbiamo Seconda camera da letto Matrimoniale Che si affaccia Poi Su questo balconcino Su questa vista Di Oasis Springs Molto sfiziosa E poi abbiamo Piccolo studio Anche con la stazione Dell'archeologia Ho utilizzato moltissimo Avventura nella giungla In questa casa Come potete vedere A parte il nuovo kit Oasis in giardino E poi abbiamo Questa stanza Che è un po' La stanza degli ospiti O la stanza Per chi vuole Dormire da solo Insomma con questo letto A castello Con questo specchio E qui abbiamo Anche un cavalletto Da pittore Perfetto Quindi questa è la casa E fuori abbiamo anche Il retro Abbiamo il retro Con la piscina mosaicata Come vedete Eccola qui Piscina mosaicata Con il blu Abbiamo le due sedie sdraio Con l'ombrellone E abbiamo anche la zona Per grigliare E per mangiare Perfetto Quindi questa è la casa Vi faccio vedere Anche dall'alto Così potete vedere La piantina Questo è il primo piano O piano terra Come lo potete chiamare E questo è il secondo piano E ovviamente Questo è il tetto Perfetto Quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto Che questa casa Vi sia piaciuto Io sono veramente Super contento Di aver costruito Questa casa E sono molto Molto soddisfatto Adesso aspetto I vostri pareri E ovviamente La casa la trovate In galleria Il mio ID È jovi Underscore 0103 E ve l'ho messa qua In evidenza La casa È questa qui Perfetto Quindi vi invito A riscrivervi A lasciare tanti commentini Con i vostri pareri A lasciare un like A condividere il video Con i vostri amici Ovviamente Vi invito a seguirmi Su ultimativi Social Facebook Instagram E Twitch Vi mando Un bacione fortissimo E buon sims A tutti E buon sims A buon sims A buon sims